L'Avellino ha un conto in sospeso contro il Foggia dalla passata stagione, quando i satanelli si imposero in poche settimane per ben due volte sui lupi, spezzando i sogni di Gloria Biancoverdi, battendo i ragazzi di Gautieri in campionato alla zaccheria 2-0 con Merola e Curcio e ribaltando la partita dei playoff al partenio Lombardi, vincendo 2-1. Ma se vogliamo analizzare solo le sfide giocate in casa dei satanelli, il bilancio è di 19 match, 10 vittorie dei padroni di casa, 6 pareggi e 3 successi irpini. La prima vittoria dell'Avellino in casa dei Rossoneri risale al torneo di B89-90, quando la doppietta di Sorbello resevano i gol di Signori, 2-1 il finale per i lupi. Nel 95-96 i Biancoverdi si imposero 1-0, con gol di Luiso sempre in cadetteria. Nel torneo 2020-2021 DC vittoria Biancoverde per 2-1 grazie a D'Angelo e Sant'Agnillo. Tra gli ex di turno Fabio Tito, il calciatore di Castellammare, vante una breve esperienza con la compagine rossonera, così come sarà una partita particolare per Antonio Matera, originario di San Severo, provincia di Foggia. Per Massimo Rastelli, il bilancio d'allenatore contro i satanelli è di un successo e di un KO, quando era alla guida della Cremonese. Bilancio in perfetta parità anche da calciatore, con 5 vittorie e altrettanto sconfitte. Rastelli si è risautore anche di una doppietta in un 5-1 della Lucchese ai satanelli. Per Fabio Gallo, da tecnico, sono 8 i precedenti contro l'Avellino, due successi, un pari e 5 sconfitte. Nelle ultime tre partite di campionato ha perso tre volte, con potenza eternale.